Bormio e Milano Cortina 2026, giovani e le Olimpiadi, opportunità da accogliere in termini di promozione del territorio e dei suoi valori, ma anche di crescita personale e professionale. Nel percorso di avvicinamento al più importante evento che la Valtellina abbia mai ospitato, si inserisce il programma Education Gen26 dedicato alle scuole, voluto dal comitato organizzatore di Milano Cortina e organizzato in collaborazione con il CONI. È toccato al sindaco di Bormio Silvia Cavazzi introdurre l'incontro organizzato all'Istituto Alberti alla presenza di Sergio Schena, consigliere di amministrazione della Fondazione Milano Cortina, Domenico De Maio e Ivan Ciocchini, con ospiti Katia Colturi, ex atleta, e Yuri Confortola, nazionale di Short Track. Il coinvolgimento dei bormini, dei giovani in particolare, è una nostra priorità, sotto linea Cavazzi. Stiamo definendo delle azioni specifiche e questo incontro ha rappresentato il prologo di quello che avverrà nei prossimi mesi. Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 in provincia di Sondrio attiveranno una produzione di oltre un miliardo di euro per un valore aggiunto di quasi 500 milioni e svilupperanno un'occupazione pari a 8.700 unità a fronte di una copertura mediale di oltre 150.000 ore, il 38% in più rispetto alle Olimpiadi di Sochi del 2014, con 670 milioni di utenti dei contenuti online.